raga ho trovato la perla non credo sia perla sembra di plastica qualche oggetto di bigiotteria dell'epoca sì sì si vede però non male peccato che non c'è quell'altra sicuramente una è la bianca e l'altra gialla sicuramente però si vedono ora vi faccio vedere secondo me qui c'erano anche altre perle che nel tempo si sono staccate comunque provo anche a scavare un po' per vedere se c'è qualcos'altro magari riusciamo a ricomporlo sì bello infatti sì comunque sicuramente c'erano due grandi qua sicuramente questo era giallo anche bianco bella bella sì bella assai bel ritrovamento il segnale diciamo non è un granché però mai dire mai proviamo siamo venuti per questo sì sì li scaviamo vediamo un po' cosa cos'è che c'è vicino c'è la roccia qua eh sì vicino alle rocce qua è scomodo non c'è ne ha più un po' che sotto l'abito non so come si è già andata a finire là a meno che non è proprio qualche pietra che suona eh qualche pietra calcare ma sì qualche pietra mineralizzata qualche pietra mineralizzata sì ma non penso comunque ci sono venuto altre volte ma diciamo non mi è mai capitato però mai dire mai sì ma eh ma qua siamo arrivati proprio siamo arrivati proprio alla roccia eh eh proprio all'angolino stavamo scavando proprio in un punto sbagliato eh capita pure a noi spesso questo fa che si sposta eh perché avendo la piastra grande hai capito ti ti confondi eh non sai che è uscita eh poi si è uscita poi noi non siamo esperti si esperti ci stiamo ancora si piano piano eh certo basta che ci divertiamo quello è l'importante eh l'abbiamo perso? no non ancora l'incompagnia è ancora più bello? eh sì eh allora che è un serpente e sarà piccolissimo poco piccolissimo no ma ecco ecco sì quanti ne abbiamo trovati noi pure? eh sì ma proprio noi scaviamo anche questo si segnava sui trenta si andrei allora l'ho scavato giusto perché era eh sì abbastanza stabile vediamo crash l'abbiamo tirato fuori? è uscito fuori sì qualcosa di piccolino Andro un piccolo mi fa ancora giù abbiamo anche migliorato l'idea eh lo dà sui 51 ora è pieno di pietra è pieno di pietra uh eh sì vedi è un po' affondo eh ecco qua uscito cos'è? eh con gli occhielli dei tendoni sì vabbè meglio di niente sì ho appena scavato qui dovrebbe essere uscita finalmente dopo tanto è uscita mi sa che porcheria porcheria schifezza c'è una scritta qua ma non non si capisce bene comunque è alluminio andiamo ecco ecco monetina liscia peccato liscia liscia ok eccolo anche qua un mezzo ferro d'asino con ancora i chiodi dentro bene continuiamo ci siamo? vediamo cosa ha trovato Michele è un bottone è un bottone un bottone piccolo è una piccola moneta però non so se vittorio ma piccolissima o vittorio o umberto non riesco a capire c'è una testa? sì un centesimo vittorio emanuelo è piccolo eh sì è piccolo può essere anche straniero insieme con vittorio emanuelo vittorio emanuelo terzo l'editano vittorio emanuelo terzo l'editano va bene è un centesimo però si è così è piccolo è piccolo è più recente il bottone vediamo cos'è l'uscita l'uscita ecco la moneta moneta sì sì moneta ma non bella grande sì eccola bella doppia 5 lire 5 lire belle grandi eh sì c'è l'uva c'è l'uva poi c'è un volto un volto sì bella bella ma è la prima di oggi a me ottimo ritrovamento eh sì sta messa pure bene è la più grande fino ad oggi eh sì bella doppia sì sta messa bene sì abbastanza buono ottimo 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 vediamo in questa buca cosa è? un bottone un bottone e questo l'abbiamo trovato più avanti ok tutte e due bottoni uno quadrato e uno rotondo quello quadrato qui e l'altro più avanti e l'altro più avanti bella bella la forma del sugo mi sa c'è tipo un fiorellino all'interno bella bella sì perfetto cos'è? come era il segnale? un bel segnale un bel segnale? sì vediamo se è un'altra bella moneta Antonio ha trovato una bella moneta sì bella doppia con l'uva porcheria porcheria? sì ma... vediamo questo questo qua qua beh ok ma vedi un po' porcheria porcheria piccola buca qua ecco eccola sembra una moneta poi può essere anche un bottone ah 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 moneta sì moneta non si riesce a vedere ah 5 centesimi spiga appena fatto un'altra buca segnava ferro però è qui è qui che questo è guarda qua ecco questo era sicuro non immaginavo proviamo a scavare però immaginavo che usciva roba del genere va bene andiamo avanti grazie Antonio io vengo sempre in soccorso arrivo vabbè se Ah, mi scioglieva. Un po' ci sposte. Sposte, sposte. E questo è. Ecco, 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 scide, scide. Pusso? Non puso. Sì, vediamo, c'è lì. tipo una fibietta sarà, sì una fibietta, sì più o meno, vediamo anche l'ora vediamo cos'è eccola, 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 cos'è? unito? no, bottone, 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 sì, niente di che ho scavato, abbiamo fatto a cambio con mio padre adesso mio padre si è voluto prendere il gallet, adesso io uso il simplex, segnava un buon suono, segnava un buon un buon, però il suono era abbastanza, oh, moneta, terza moneta della giornata, terza moneta, questa è 10 centesimi ape, bella, bella, terza moneta di oggi, due con il gallet, la prima con il simplex bella, sì, abbastanza, non è messa proprio male male, bella bene, siamo appena tornati, ringraziamo ancora i nostri amici, Antonio, Michele, la ragazza Carmen e la moglie di Michele, grazie mille ancora della bella giornata passata e questi sono i ritrovamenti e le porcherie che abbiamo trovato in totale tra me e mio padre, da dove iniziamo, iniziamo dalle monete dai, 5 centesimi Italia, eccola qui, bene, aquila che ho trovato io, questa, questo è il mio primo ritrovamento, subito come sono arrivato, 20 centesimi esagono, bella, sta messa anche bene, questa l'hai trovata tu, 10 centesimi ape, questa è la 10 centesimi ape che ho trovato io, l'ultima con il simplex, quando abbiamo fatto il cambio alla fine, non è andata male, no no, e questa l'hai trovata tu, 5 centesimi spiga, e poi questa qui che ne abbiamo trovate parecchie, anche nelle altre uscite, sottile, sottile, c'è una specie di croce, però l'altra parte è liscia, l'altra parte è proprio liscia, liscia, e guardate la macchinina che ha trovato mio padre, peccato che è rotta, ma pesa, pesa proprio, la piomba sicuramente, i ferri di cavallo non mancano mai, chiodi anche, ma al fai ci sono anche i chiodi già, si si, anche la fibbia, la bella fibbia che hai trovato mio padre, questa potrebbe essere una fibbiona, eh, si può essere, e la chiave dove la mettiamo, quella che hai trovato, il più bello ritrovamento, proprio una cosa mai fatto, il simplex sta cacciando molta più roba, e poi le solite porcherie che vedete qui, per il ferro vecchio, si si, eccole qui, e poi guardate, uno spettacolo, la bestia che ha fatto, che mi ha fatto il mio amico Antonio, dopo il sandscope, il cortejo da scavo, guardate, tutta in acciaio, due millimetri, con rinforzo, al centro, al centro, bellissimo, non vedo l'ora di provare, guardate che spettacolo, va bene, bene, grazie mille Antonio, di cuore, bravissima persona, stupenda guarda, veramente bello, lo dobbiamo mettere solo all'opera, si, ti aspettiamo anche qui, vediamo di portarti in qualche zona, qui vicino a casa, dove siamo andati anche con mio padre, sperando che esce qualcosa, dove ci hai portato tu, è andata bene, è andata benissimo, soddisfazioni, speriamo che quando vieni, trovi anche qualcosa tu, comunque l'importante è divertirsi, come anche se non troviamo niente, in compagnia, è ancora più bello, sempre, sempre, va bene ragazzi, grazie a tutti della visione, continuate ad iscrivervi, mettete un mi piace se vi è piaciuto il video, condividete, se siete interessati all'acquisto di metadetettore e accessori rivali, contattateci, link in descrizione, buona giornata a tutti, ciao a tutti